John Kosinski, bel talento, il pilota dell'Arkansaw, ve lo ricordate? Lui fin da ragazzo vinceva tutto negli States e allora Roberts lo portò in Europa con la 250 Yamaha nel 88 e gli fece correre due gare soltanto, quarto e quinto, e poi a casa. L'anno dopo, 89, lo vediamo ancora a Suzuka, Paul, vittoria e giro veloce, lo stesso a Laguna Seca, Paul, vittoria e giro veloce, poi ancora a casa. E beh, tutti a chiedere a Kenny Roberts, monta lento così, perché non gli fai correre tutto il mondiale? No, diceva Roberts, il ragazzo non è ancora maturo, aspettiamo. Vabbè, nel 90 comunque la stagione la fa, campione del mondo, Yamaha a due e mezzo, sette vittorie e cinque podi, ai danni di Cardus e di Kadalora, poi 500, Yamaha, Kajiva, due vittorie anche con la Kajiva, però era un tipo, come vi dicevo, piuttosto strano. Intanto non lo si poteva toccare neanche con un dito, neanche per sbaglio. Se qualcuno fumava a meno di cinque metri da lui, dava inescandescenze. Wayne Reney, che era suo compagno di squadra e dormiva nel motorhome accanto a quello di John, raccontava che alle tre di notte magari quello si svegliava e faceva andare l'aspirapolvere nel camper, svegliandolo, insomma, non era un tipo comodo. La verità era che lui aveva una vera mania per l'igiene. Il suo modo di disfare i bagagli, quando con l'aereo arrivava al circuito e poi metteva le sue cose nel camper, era particolare, metteva le valigie su un tavolino fuori dal motorhome, tirava fuori sacchetto per sacchetto, tutto ben sigillato, le sue cosine, faceva prendere aria, le portava dentro il motorhome e la valigia non entrava mai dentro, ma rimaneva in un gavone esterno, perché la verità era che lui già allora aveva paura del virus, pensavamo fosse matto, forse guardava e vedeva più lontano di noi. Ciao!